giugando per Daniel Sanchez, sta giugando il rappresentativo uruguaglio Pelletti appoggiando Miguel Quattro da Luz, ai latini guarda il Pelletti che viene di attrasse Pelletti Pelletti, la marca del Zigno, Pelletti. Attenzione ci sarà un calcio di rigore, chiedo scusa un calcio di rigore, no c'è stato un intervento, un falso allarme, era sembrato calcio di rigore. Levanti s'applanta para Junio, una bonita jugada, entro il territorio d'Uruguay, attenzione. Quarto avversario superato, entra in area Gasconi, tenta di appoggiare la palla in rete. And he finds McManaman on the right, a Cross comes in, Cross gets it away not too convincingly, and Burrows comes in and hits it. Chiudiamo questo speciale Spoleto Calcio Mercato, sempre dal Macron Store Guerrini Sport di Campello sul Clitunno parlando della prima categoria con il direttore sportivo della Superga 48, Massimiliano Capitani ed il presidente della Quattro Castelli, Antonello Caterini. Campionato di prima categoria che si presenta a vincente, siamo con Massimiliano Capitani, direttore sportivo della Superga 48, l'anno scorso la vittoria della Coppa Italia e quest'anno? Diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto una cosa incredibile per quanto riguarda la Coppa, perché vincere un campionato, anzi un trofeo regionale, 64 squadre, è sempre complicato, abbiamo fatto una cavalcata incredibile con la finale, con un'ottima squadra come la BM8, vinta i rigori in maniera ucambolesca, però sicuramente abbiamo fatto poco per quanto riguarda il campionato, cioè abbiamo fatto un campionato non soddisfacente considerando la qualità della squadra, almeno per quanto riguarda l'anno passato. Quest'anno speriamo con la statura dell'anno scorso e con gli innessi di tutti i ragazzi in gamba, seri, bravi, di riuscire a fare un campionato per essere protagonisti in questo campionato difficilissimo. Tra l'altro se noi, così come la Quattro Castelli, il Cascia e la BM8, verremo inseriti nel girone C come l'anno scorso, sicuramente questo sarà un girone tosto, un girone veramente difficile. Allora, dicevi, mantenuta prevalentemente l'ossatura dell'anno passato, ma il mercato estivo comunque ha portato a San Giovanni di Bagliano dei giocatori importanti, come Manuel Candelori, come Capoccia e via dicendo, insomma. Parlaci un po' del mercato della Superga. Diciamo che quest'anno è stato facile fare il mercato perché tutti questi ragazzi, adesso dirò anche i nomi, hanno avuto un approccio assolutamente positivo, nel senso che io li ho cercati, chiaramente, perché ci interessavano, però loro hanno mostrato subito grande disponibilità a voler venire a giocare con noi, chi per motivi personali, perché comunque è amico, c'è un gruppo, diciamo, degli amici che gioca lì, come Lorenzo Cavadenti, che secondo me è un ragazzino del 98 strepitoso per la categoria, ma potenzialmente potrebbe giocare anche in categoria di superiori, così come Francesco Ramaccioni, così come Cristiano Parmeggiani, così come Adessio Radici, cioè questo gruppo di ragazzetti del 98 che vivono insieme a Perugia e quindi hanno fatto squadra e sono venuti da me, da noi, anzi, dalla Superga. Poi Andrea, Andrea Capoccia, noi lo cercavamo da tanto tempo, un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile della Superga, bravo, abita San Giovanni di Baiano, quindi lui ha questa voglia di riscatto, perché l'anno scorso, diciamo, ha vinto il campionato con il Campello, però non è stato propriamente un protagonista, e quindi con lui abbiamo trovato subito la quadra, perché lui ha voglia di rimettersi in discussione, è un ragazzo in gamma, un ragazzo bravo, e vediamo. Poi Emanuele è stata un po' la ciliegina sulla torta, perché anche lui ha fatto un po' una scelta, diciamo, di famiglia, nel senso che è molto amico con Alessandro Ramaccioni, con tutti i ragazzi nostri, quindi è stato facile per lui scegliere la Superga, è chiaro, è un giocatore importante che in Serie D è stato il miglior 96 nell'anno, adesso lo ricordo, 5-6 anni fa, dove un anno che ha fatto veramente strascelli. 11 reti, signor. Poi, quindi, diciamo, ci aspettiamo da Manuel, ci aspettiamo un campionato, diciamo, sicuramente positivo, insomma, lui è un giocatore che potenzialmente potrebbe darci una grande mano, ma così come ce la daranno sicuramente anche Bovienzo, Giovanni, insomma, anche lui è stato uno di quelli, il primo forse che abbiamo preso, subito grande disponibilità, così come ci darà una mano anche i ragazzini che abbiamo preso, perché abbiamo preso Fausto Ginepri dallo Spoleto, un ragazzino del 2000, molto in gamba, e ultimo, ma non ultimo, Nicola, Nicola Cuna, che è un ragazzino del 99, l'anno scorso stava con la Quattro Castelli, ha fatto un campionato strepitoso. Nicola è un ragazzo d'oro, io mi aspetto da lui, veramente un campionato importante, perché lui ha le qualità sicuramente per giocare in queste categorie, ma probabilmente anche di più, ma soprattutto c'è un approccio al calcio, alla dedizione che è speciale, e a me piacciono questi ragazzi. In più, aggiungo, l'ultimo nuovo, diciamo, è Leonardo, Leonardo Lucentini, che stava spoleto l'anno scorso, è esordito in eccellenza, un ragazzino del 2000, ragazzino nostro, quindi della Superga, e quest'anno lo inseriamo nel gruppo della prima squadra, siamo una squadra, diciamo, non molto abbondante, diciamo come numeri, perché siamo 22 con tre portieri, quindi non siamo in molti, però d'accordo con il mister, abbiamo fatto una squadra competitiva, con i doppi ruoli, i doppi giocatori, insomma, che in qualche maniera possono essere anche indescambiabili. Insieme ai ragazzi nuovi, c'è tutta l'ossatura della squadra, con i due portieroni, Almir, Kamovic e Spiccia, poi abbiamo chiaramente i capitani della squadra, che sono Proietti e Casini, poi c'è Gianni Di Burzi, Giovanni Balsamo, 99 fortissimo, Gianluca Mendi, l'altro attaccante bravo, Buccioli, Michele, che ha fatto anche lui una scelta, diciamo, di vita, era stato richiesto di vita, tra virgolette, parliamo di calcio prima categoria, però era stato richiesto da altre squadre, lui ha dovuto fortemente rimanere con noi, e quindi sulla fascia sinistra, se la giocherà con un altro grandissimo ragazzo speciale, che è Federico Settimi, insieme ai ragazzi dell'anno scorso, che rappresentano un po' lo zoccolo duro, il più importante per quello che ha fatto anche l'anno scorso, è sicuramente Francesco Peroni, dal quale ci aspettiamo ancora un saltino, diciamo, che ci faccia fare il saltino di qualità, perché lui ha tutte le possibilità, le capacità di potercelo fare. Chiaramente, vista la squadra, vista comunque la qualità di questi giocatori, di cui stai parlando, non posso non chiederti qual è l'obiettivo della società, perché sicuramente sarà un obiettivo ambizioso. Allora, calcisticamente noi come tutti gli anni, proviamo a fare un campionato da protagonisti, questo è l'ottavo anno, siamo ripartiti sette anni fa dalla terza, e abbiamo fatto sette anni sicuramente positivi, perché abbiamo perso una finale play-off, abbiamo perso una semifinale play-off, abbiamo vinto un campionato, abbiamo vinto una coppa regionale, quindi la Superga come società e come squadra ha avuto sempre un ruolo da protagonista in questi campionati. Sarà difficile, chiaramente è complicato, ma noi ci proveremo. Detto questo, poi c'è tutto l'aspetto organizzativo, perché quest'anno la Superga 48 ha deciso anche di investire nelle strutture, quindi faremo un campo esinterio per l'allenamento, stiamo cercando in qualche maniera di mettere in condizione anche i tanti ragazzini che abbiamo tenuto conto della fusione, spesso del 2015 è educato, che quindi rappresenta il primo polo per quanto riguarda il settore giovanile e scuola calcio, noi siamo il secondo polo, come è giusto che sia, ma noi cercheremo in qualche maniera di crescere per dare un contributo anche a questi ragazzini che in qualche maniera devono vedere la prima squadra della Superga, nello specifico se riguarda la Superga 48, ma in generale devono vedere le prime squadre come un punto di riferimento, un punto di arrivo. Per chiudere ti chiedo un parere sulle dirette avversarie spoletine, ovvero 4 Castelli e BM8 che comunque saranno probabilmente sullo stesso girone della Superga. Allora sicuramente Antonello che mi sta osservando se potete farà dei scongiuri, ma secondo me la 4 Castelli ha fatto veramente una grande campagna acquisti, ha preso dei ragazzi veramente bravi, uno su tutti, Iunusa, Iello, che è un ragazzo speciale, insieme ad altri ragazzi che ha preso è sicuramente un'ottima squadra, un grande allenatore. La BM8 è la solita squadra, la BM8 è costruita sempre per vincere, quindi sarà una grande antagonista, ma così come noi abbiamo una buona squadra, un ottimo allenatore anche noi, così come ce l'hanno le altre due squadre spoletine, ma credo che oltre a queste tre ci sia il Bevagna, probabilmente forse un gradino più su, non lo so, però sicuramente Bevagna ha fatto una squadra tutto rispetto, e poi aggiungerei squadre di Foligno, perché la Virtus Foligno è sicuramente una squadra difficilissima da affrontare, la C4 è l'ottima squadra, il Cerqueto è l'ottima squadra, poi il resto è sempre difficile poter pronosticare, perché ogni anno comunque esce una sorpresa. Le squadre sicuramente del Sigillo, Fossato, Cerqueto, Cerqueto l'ho già detto, sono squadre difficilissime da affrontare, specialmente fuori casa, ma dopo tutte le altre che sono salite, dal Costano, probabilmente sarà sul Giro del Noso, il Nocera, probabilmente il Torgiano, la Sesta C4, tutte squadre attrezzatissime, quindi sarà difficile, sarà un campionato difficilissimo, come giusto che sia. Quando inizierà la preparazione? Noi inizieremo il 16 con la prima squadra, e domani inizieranno i portieri con il mister Franco Ducettini. Grazie, ci vediamo il 16 agosto. Antonello Caterini, presidente della 4 Castelli, un mercato importante durante l'estate, la 4 Castelli si ripresenta ai nastri di partenza, come una delle squadre meglio attrezzate forse. Come tutti gli anni abbiamo fatto un mercato, diciamo, mirato, abbiamo cercato di andare a tappare quei buchi dove avevamo delle carenze, l'anno scorso avevamo una rosa un po' corta, quindi quest'anno, d'accordo col mister, abbiamo deciso di allargare il numero dei giocatori, 20-21 giocatori che secondo me possono far bene, possono farci divertire. Al timone c'è un allenatore di grande esperienza, che credo nello spoletino sia uno dei migliori. E una rosa che, come tutti gli anni, parte da uno zoccolo che secondo me in pochi anni, avendo giocatori che sono insieme con noi da 5-6 anni, diciamo, gli abbiamo messo vicino dei ragazzi che secondo me possono far bene, dei ragazzi che possono farci divertire e che ci possono far ottenere degli ottimi risultati. In sintesi, quali sono i giocatori che sono arrivati quest'anno? Beh, abbiamo preso a porta Nicolas Giordani, che ha avuto esperienze nelle giovaline del Ducato e viene da 3-4 campionati con il Norcia. In difesa abbiamo preso Montanari, ex Spoleto. A centrocampo c'è stato l'arrivo di Toppo, che sinceramente ho voluto fortemente, per il quale sono sceso in campo in prima linea con il direttore sportivo Proietti Costa, che ringrazio anzi per l'opportunità che ci ha dato di averlo. e la piccola rivoluzione l'abbiamo fatta in attacco, dove l'anno scorso eravamo veramente poveri e dove l'anno scorso il solo Lugai ci ha portato ad una salvezza che è arrivata con molte giornate d'anticipo rispetto a quello che era stato preventivato. Quindi c'è stato l'arrivo dalla Superga 48 di Yellow of Digiada, e c'è stato l'arrivo da Campello di Cavadenti e poi ecco ci sono stati altri ragazzi come Sambu sempre della Superga che ci hanno cercato tra virgolette per poter venire a fare questa esperienza con la Quattro Castelli. Ma quindi il mercato è completo? Allora, il mercato non è ancora completo, ci stiamo guardando in giro per quanto riguarda ancora qualche fuori quota da poter aggiungere alla Rosa. C'è stato il ritorno di Luca Fogliani che l'anno scorso aveva voluto fare un'esperienza a Trevi e che quest'anno è voluto tornare da noi. Un ragazzo che è stato con noi per diversi anni, un piccolo Giogli lo definisco io perché è un ragazzo che può ricoprire più ruoli in mezzo al campo. e parlandoci l'ho visto veramente motivato e con una gran voglia di tornare alla Quattro Castelli. È chiaro che ti devo chiederti quale sarà l'obiettivo di questa Quattro Castelli visto che comunque la Rosa è competitiva. Il nostro obiettivo rimane sempre quello di divertirci innanzitutto. Come ti ripeto abbiamo un gruppo di ragazzi che io definisco una famiglia che vuole far bene, un gruppo di ragazzi che quando si scende in campo la domenica dà tutto per la maglia. Il nostro obiettivo è, come si dice sempre, migliorare quello che si è fatto l'anno precedente. Ma noi non ci poniamo obiettivi. Siamo una società tranquilla, una società che non mira né a grandi risultati né a fare chissà cosa. Una società che, ripeto, la prima cosa è il divertimento, è lo stare insieme, è il vivere la situazione dal lunedì alla domenica perché è un vero gruppo di amici che non si ritrova solo la domenica o nell'ora dell'allenamento ma si ritrova tutta la settimana per qualsiasi occasione. Un parere sulle altre spoletine superga e BM8? Beh, non ti nascondo che secondo me sono due squadre che partono per vincere il campionato. Le vedo leggermente più attrezzate di noi ma poi io sono uno di quelli che dice che i campionati si vincono in mezzo al campo e non sulla carta. Quindi sono due società che sicuramente saranno tra le protagoniste del campionato. Due società ambiziosi, due società che, avendo anche la superga, soprattutto il settore giovanile, possono permettersi di guardare avanti anche per quanto riguarda una promozione o qualcosa del genere. Sono due società che, essendo di Spoleto, hanno anche più possibilità magari di avere giocatori dello spoletino. Per chiudere, al campo da calcio Santi di Castel San Felice sono previsti degli interventi di miglioramento dell'impianto? Sì, colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Santa Anatolia, in primis il Sindaco Fibraroli, perché tutti gli anni ci sopporta e ci supporta con un impianto che ci è invidiato da molte società. Dovrebbero partire appena l'estate questi lavori di restyling per quanto riguarda l'impianto, quindi verrà fatto questo tanto desiderato campo di allenamento, verranno rifatte le tribune, verranno fatte delle costruzioni per quanto riguarda il bar, la biglietteria, forse faremo anche una mini palestra per i giocatori, per quello che ci è possibile. Quindi sono convinto che questi lavori ci daranno anche a noi della società ancora più motivazioni per andare avanti, perché non nascondo che soprattutto a livello economico in Valnerina, soprattutto dopo il sisma del 2016, è diventato difficile mantenere società di prima categoria perché purtroppo gli sponsor causa la crisi, qualcuno si è tirato indietro e quindi le nostre forze economiche sono tutti gli anni, tutti gli anni meno, vengono tutti gli anni meno, quindi mantenere una squadra in prima categoria, nonostante tutto noi diciamo il nostro mini budget, io lo chiamo annuale, è una cosa che sta diventando veramente difficile. La 4 Castelli però c'è e ci sarà anche in questa stagione, vuole dire la sua. La 4 Castelli come tutti gli anni c'è, vuole dire la sua, anche perché i campionati, dico io, così tanto per farli non sono per noi, quindi siamo una società giovane, siamo una società tra virgolette ambiziosa come lo sono tutte, però ecco, se non c'è questo spirito, se non c'è questa voglia di fare non si va da nessuna parte, quindi la 4 Castelli c'è e speriamo che sia una delle squadre protagoniste di questo campionato. Grazie.